Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Prima di immergerci nel contenuto di oggi, vi invitiamo calorosamente a iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime notizie. Non dimenticate di mettere un bel mi piace al video se vi è piaciuto e soprattutto ci teniamo tantissimo a leggere le vostre opinioni nei commenti perché il vostro feedback è fondamentale per noi. Oggi vi parliamo di una vicenda che ha scosso l'Italia intera e che, nonostante siano passati quasi trent'anni, continua a tenere col fiato sospeso il caso della piccola Angela Celentano. Era il 10 agosto 1996, un giorno che doveva essere una normale gita in montagna si trasformò in un incubo. Angela, che all'epoca aveva solo tre anni, si trovava insieme ai suoi genitori, Maria Stajano e Catello Celentano, e alle sue sorelle sul Monte Faito. Improvvisamente, la bambina sparì nel nulla, senza lasciare alcuna traccia. Da quel momento, la famiglia non ha mai smesso di cercarla, lottando contro l'incertezza e il dolore. Non ci arrenderemo mai, è il loro grido di battaglia, ripetuto con determinazione negli anni. La notizia di poche ore fa potrebbe rappresentare una svolta straordinaria. Se confermata, aprirebbe nuovi scenari in questa lunga e dolorosa ricerca. L'ultima segnalazione arriva dalla Turchia. Secondo il settimanale Diva e Donna, una blogger italiana di nome Vincenza Trentinella, mentre si trovava in vacanza sull'isola di Biukada, a sud di Istanbul, avrebbe scattato una foto a una ragazza che somiglia in modo impressionante ad Angela Celentano. La giovane vivrebbe con un veterinario turco, Fafi Bey, che l'avrebbe adottata molti anni fa. Questa segnalazione ha subito acceso nuove speranze, ma purtroppo, i primi tentativi di fare chiarezza si sono rivelati infruttuosi. Le autorità italiane, arrivate sul posto per indagare, hanno interrogato la persona sbagliata, un uomo di nome Farid Al. Nonostante questo errore, il giudice per le indagini preliminari di Napoli, Federica Colucci, ha deciso di non abbandonare alcuna pista e ha prolungato le indagini per altri sei mesi, nella speranza che emergano finalmente dettagli cruciali. Per Maria e Catello Celentano, il filo della speranza è ormai l'unica cosa che li sostiene nella loro infinita ricerca della verità. La loro più grande paura è che, se Angela fosse ancora viva, potrebbe non ricordare nulla della sua famiglia, essendo stata portata via così piccola. Eppure, nonostante gli anni che passano e le molte delusioni, i genitori di Angela non hanno mai perso la forza di lanciare appelli affinché la storia della loro bambina non venga dimenticata. Le indagini, nel corso degli anni, non hanno mai portato a una verità definitiva. Diverse ipotesi sono state esplorate. Si è pensato ai nomadi, alle comunità religiose frequentate dalla famiglia e persino a parenti, ma nessuna pista ha mai condotto a una conclusione concreta. Ora, con questa nuova segnalazione dalla Turchia, la speranza è che non si tratti dell'ennesima delusione, ma di una vera possibilità di ritrovare Angela. Ci sono ancora 180 giorni, durante i quali il giudice Colucci esaminerà ogni dettaglio, alla ricerca della verità tanto attesa. Questa potrebbe essere finalmente la svolta, o forse un'altra illusione. E voi, cosa ne pensate? Potrebbe davvero essere Angela? Credete che questa pista sia quella giusta o siamo di fronte a un'altra delusione? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti, siamo curiosissimi di leggere le vostre opinioni. Non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi aggiornamenti su questa e altre vicende, e lasciate un commento qui sotto perché ci teniamo davvero a conoscere la vostra opinione. Vi leggiamo tutti, grazie per essere stati con noi, e ci vediamo presto con un nuovo video.